Prende il via domani l'ottava edizione dell'Artelesia Film Festival, la manifestazione dedicata al cinema sociale, ideata dal giovanissimo Francesco Tomasiello e promossa dall'Associazione Libero Teatro. Alla vigilia della fase dedicata alle scuole e alle università, la presentazione dell'evento è a cura del presidente di Libero Teatro, Mariella Delibero. Quest'anno ci sono dei corti bellissimi, dei cortometraggi che già hanno avuto il plauso in un altro evento che precede l'Artelesia School and University, ed è il Dream Corto. Il Dream Corto è stato organizzato quest'anno in collaborazione con ETA Beta Gamma, che è un'associazione universitaria e che ci ha dato davvero un bel contributo nell'organizzare queste serate, durante le quali i giovani universitari hanno visto, visionato e selezionato i cortometraggi. Oggi siamo già a conoscenza del vincitore del Dream Corto, che è appunto François Lebrac, con due cortometraggi in due diverse serate, Papà da Maman e Time to Split. Ed ora le scuole, le scuole protagoniste di una Sei Giorni, che comincia domani a Napoli, prosegue a Telese, poi a Benevento e l'ultimo giorno a Sorrento. Il festival si espande, i giovani sono pienamente coinvolti in questo momento di formazione cinematografica, attenti giudici dei cortometraggi in proiezione. Questi cortometraggi sono stati selezionati con attenzione e accuratezza, perché vanno rivolti ai diversi gradi di scuola e all'università. Quindi c'è un lavoro dietro di selezione non solo del Comitato dell'Artelesia, ma anche della giuria tecnica. All'incontro hanno partecipato il Vice Sindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Benevento, Raffaele Del Vecchio, il direttore del DEM dell'Università del Sannio, Giuseppe Marotta, il sindaco di Telese Pasquale Carofano e Antonio Zagarese, rappresentante dell'associazione studentesca ETA-BETA-Gamma.